Una realtà variegata e problematica, quella che emerge dal rapporto di Save the Children sulle disuguaglianze economiche ed educative all'interno delle 14 città metropolitane, proprio lì dove è maggiore la presenza di bambini e adolescenti. Fare spazio alla crescita, questo è il nome del rapporto, vogliamo parlarne questa mattina con Antonella Inverno, responsabile ricerca, dati e politiche di Save the Children Italia. Buongiorno Antonella, benvenuta, bentrovata. Buongiorno. Buongiorno a voi. Grazie per essere qui con noi anche in questa occasione per Save the Children Italia. Allora, questo rapporto, fare spazio alla crescita, Antonella, che cosa mette in evidenza? Mette in evidenza le disuguaglianze educative a cui sono sottoposti tanti, troppi bambini e bambine nel nostro paese. Ci sono quasi 3 milioni e 800 mila bambini e adolescenti tra 0 e 19 anni che in Italia vivono nelle città metropolitane e in gran parte vivono proprio nei quartieri più periferici, nelle zone più periferiche, perché è proprio lì che le nuove famiglie trovano abitazioni a più basso costo. Però queste sono molte volte le zone, le aree dove si concentra anche la mancanza di opportunità educative. Sono aree dove ci sono le scuole che offrono meno spazi tipo aule comuni o aule tecniche informatiche, palestre, menze scolastiche, come anche sono le aree dove lo spazio pubblico è meno accessibile per i minorenni, sia quello verde, i giardini dove i bambini e le bambine possono andare a giocare, sia invece i veri e propri spazi aggregativi per i ragazzi e le ragazze più grandi. Queste e tante altre disuguaglianze presentiamo nel rapporto, dove cerchiamo di dare anche una prima fotografia delle differenze che ci sono proprio all'interno delle città tra diverse aree amministrative sulla base dei dati del censimento ISTAT. Sono molto belle le immagini che abbiamo visto anche in video che rappresentano molto bene la campagna di sensibilizzazione qui vivo. Ecco, quello che vorrei domandarle, dottoressa, quali sono gli effetti che sperate possa suscitare questo rapporto? Sicuramente un'attenzione maggiore a quelle che sono le aree più deprivate del paese con l'intento di creare dei veri e propri piani di sviluppo territoriali che non partano da decisioni governative che molto spesso poi seguono fatti di cronaca, ma partano proprio dalle esigenze e dai bisogni che le stesse comunità che abbiamo scoperto, lo sapevamo già ma lo abbiamo confermato, sono comunità molto attive proprio nelle periferie italiane, sia comunità locali che si auto-organizzano, comitati di quartiere, altre realtà organizzative, sia ragazzi e ragazze che come si vede anche nelle immagini vogliono vivere nel proprio quartiere, non lo vogliono abbandonare e sono pronti a portare tutte le loro energie per far rivivere, rigenerare il proprio territorio. Quindi proprio da loro noi siamo ripartiti, siamo partiti anche con un programma molto ambizioso che si chiama qui un quartiere per crescere, coinvolge per il momento in una prima fase cinque quartieri particolarmente deprivati dal punto di vista dei servizi e delle opportunità in cinque grandi città italiane, a Torino, il quartiere Aurora Porta Palazzo, a Prato, il Macrolotto Zero, a Roma Ostia Ponente, a Napoli Pianure, a Palermo Lozen 2 e proprio da questi quartieri stiamo lavorando perché giovani, istituzioni, comunità scolastica, comunità educante nel senso più ampio ma anche privato sociale lavorino insieme per sviluppare, per creare quei servizi e quegli spazi di cui c'è bisogno in quel quartiere, non si può lavorare allo stesso modo dappertutto. Quindi possiamo anche noi firmare questa petizione, la campagna di sensibilizzazione a cui facevamo riferimento, a cui faceva riferimento anche lei qui vivo, possiamo firmare anche noi questa petizione? Sì certo, la petizione è online sul nostro sito e ha voluto accompagnare questa campagna per chiedere intanto maggiore educazione a partire proprio dai quartieri più deprivati. In tutti questi quartieri dovrebbe esserci una scuola aperta tutto il giorno, che sappiamo che in molti territori è l'unico presidio di legalità e quindi avere l'organico che rende possibile l'apertura tutto il giorno, ma avere anche una palestra e una biblioteca scolastica in ogni scuola, dove anche poter garantire alle famiglie la possibilità del comodato d'uso gratuito per i libri scolastici, che sappiamo essere un problema fondamentale in questo periodo, in particolare dove conosciamo tutti gli effetti dell'inflazione. Il paradosso è che tante volte nelle periferie... Fino a quando si può firmare la petizione, chiedo scusa? Per il momento, almeno diverse settimane resterà aperta. Stavo considerando che tante volte il paradosso è che anche in periferia ci sono tanti locali pubblici abbandonati, inutilizzati o sottoutilizzati, anche perché per le amministrazioni pubbliche far funzionare questi spazi comporta tanti costi, in maniera particolare quelli legati ai dipendenti. Quando potrebbero essere affidati alle comunità, a quella che lei ha definito la comunità educante, che molte volte ha fame di spazi per potersi incontrare, per poter organizzare eventi piccoli e grandi, che poi aiutano a crescere i nostri ragazzi, a dargli anche occasione di fargli fare delle cose importanti, interessanti e a responsabilizzarli allo stesso tempo. Che poi, secondo me, è proprio il passaggio fondamentale nella crescita di ognuno di noi quando siamo soprattutto adolescenti. Se non veniamo responsabilizzati, molte volte ci ribelliamo, è quasi una protesta muta. Sì, assolutamente. Peraltro un altro aspetto che è indagato nel rapporto è proprio quello dei beni confiscati alla criminalità organizzata, che abbiamo fatto un'analisi in diversi comuni italiani, veramente in maniera residuale, vengono assegnati poi alla comunità per fare attività effettivamente a beneficio dei bambini e delle bambine. Quindi questo già potrebbe essere un primo passo e ovviamente anche lavorare sulla rigenerazione dei beni pubblici abbandonati, come giustamente ricordava, perché potrebbero essere degli spazi fondamentali nella crescita dei bambini. Dottoressa Inverno, io la ringrazio di cuore per essere stata con noi quest'oggi, grazie a Save the Children, grazie a quello che fate quotidianamente in Italia e nel mondo. Grazie alla dottoressa Antonella Inverno per essere stata con noi. La prossima occasione. Buon lavoro. Grazie, buongiorno, buon lavoro a voi. E allora, noi ci fermiamo ancora qualche istante e poi ascolteremo le parole di Don Francesco Armenti e poi il rush finale del nostro appuntamento quotidiano. State con noi.